Rieccoci su GTA Liberty City Stories, sul nostro tablet, sul Teclest M30 Continuiamo un po' la rubrica Aspetta che forse avevo... Come potete notare, cioè sentire, forse sono anche un po' raffreddato Ma noi siamo qui a continuare a giocare Allora... no, non sono riuscito a fare il tempo E' un po' rando, buoni Ehi, get out the damn way! Ah, voglio giusto fare il controllo di routine. Chi rompe paga. Ah, mi ricordo questa missione. Grazie. Siamo, ci siamo quasi. Siamo riusciti, tutto sommato vanno a maneggiare, c'è qualcosa che è successo, non di tantissimo. Ed eccoci con tre stelle della polizia, che siamo riusciti ad evitare l'esplosione. Andiamo. Allora. 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 Come on tough guy, move! Continuiamo. Chiavi in mano. Ah, minaccio. Eh, qui, mi sa che è la dove prenderemo una macchina abbastanza veloce. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ascord! 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 Sshh! You haven't tried to destroy the two's gases? What? It's a shame to destroy a machine like this But... ...turtroppo it's done! No, 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 no... Vabbè... Vabbè, visto che ci sono, raccogliamo quello lì Dovrebbe essercene un altro No, no, qua non c'è Vabbè Continuiamo con la missione Andiamo da... Dalla Jay Su, muoviti Sì No, che palle Oh... Chiaramente non abbiamo più la pistola Vabbè... Non è un problema Can we get a bull ball, please? For the camera, come on! C'è ci vede No, no, no... Oh... 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 Oh, oh! Oh... 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 Non nudge. Non nudge. Aspetta che... Dovevo scorrere... Che non è chiaramente automatico... Oh! E visto che siamo qua... Si salva! Era questo... Il file di questo... Let's play... O che è quello che insomma... Oh! Oh! Ci siamo! Vabbè... Vediamo la suona... Questa è una idea della polizia così... Non ci rompe i coglioni! Vabbè... 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 Hey, that pimp is ripping off one of my girls. Get the money back, Tony. Oh. Sì. Sì, non è vero. ah amici in 5 minuti I think you can take me! Get me the hell out of here! eee and Stai ancora a capire la munglanza e l'ho usato prima. Grazie, signor Leone. Lo si, non si cazza la moto. Lo siamo riusciti a riprendermi. Dio, povero. Aspetta un attimo qua. Sì, ce n'è l'auto. Visto che ci siamo. Ma sì, dai, andiamoci a piedi. E usiamo la velocità dell'emulatore. Il boost velocità. Visto che ci siamo, facciamo un piccolo save state. Ok, si sa male. Una situazione esplosiva. Noi. 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 e non sarà male aspetta che no, la velocità è un po' va che anche se la differenza è veramente meno boh, ci sono a 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